bella raga qui è mirkody ed oggi siamo tornati in un nuovo episodio della serie recensioni app oggi recensiremo un altro gioco che si chiama draw your game disegna il tuo gioco in pratica voi potete disegnare in un foglio di carta un videogioco inanimato gli scattate una foto e poi magia andate qua su crea allora togliamo questo si aspettate vabbè allora voi andate sul nuovo mondo aspettate nuovo mondo e poi fate un disegno io ora devo stoppare perché devo andare a fare il disegno ciao ci vediamo ora che vi farò che fare un video mentre disegno allora raga come vi ho detto per fare gli ostacoli bisogna mettere il rosso ed ecco qui un po di rosso ecco qua aspettate ecco poi per fare gli oggetti mobili bisogna mettere il blu ok guardate ed infine anzi no poi i trampolini quelle cose là le cose rimbalzose bisogna farle in verde verde normale non è verde scuro né verde chiaro ecco qua allora verde verde io sto facendo un caso ecco vabbè dai ok poi tanto ve lo farò vedere ecco qua e poi per le piattaforme bisogna fare delle cose tipo così ecco qua occidentali scarma ecco qua è un livello che fa schifo lo so ma tanto poi proveremo quelli già fatti bene bene raga siamo tornati da con come dire dal disegnatorio no e allora ora possiamo creare il nostro livello ok 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 no 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 ecco ecco così si che va bene vai vediamo no no oh mio dio ok 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 ancora un pelino poco poco ecco perfect ora deniso ora non posso allora poi dobbiamo posizionare il nostro personaggio su uno di questi vai ecco qua non dobbiamo toccare il rosso allora questi qua ci fanno rimbalzare per arrampicarci dobbiamo schiacciare questi due insieme bene ed infine uscire ecco benissimo ora proviamo un mondo di un altro giocatore gioca avventura no aspetta no non avventura lista mettiamo facile poi dopo proviamo medio e difficile vai aspettate che aspetta eh devo scusa se ora si sente male ma devo fare proprio così per giocare se no vai random vai allora rega è stato facilissimo fare il livello ed ora taglio perché non voglio fare altro spoiler ok raga mi sono visto di nuovo la pubblicità ed ora possiamo andare random distruggi gli elementi blu facile allora per distruggere gli elementi blu bisogna farli cadere nel nella roba rossa ora 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 ragazzi allora per dire sì hai 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 va Bene raga, allora, riproviamo per l'ultima volta No, no, madonna No, ma perché? No, raga, io qua taglio perché Ok raga, finalmente ce l'ho fatta Ora taglio di nuovo però perché non voglio fare spoiler di pubblicità Ok raga, mi son visto di nuovo la pubblicità Ultimo livello random E poi facciamone uno difficile E poi vediamo cosa c'è dopo Oh mio dio, che bello questo mondo Ma è anche super buggato Aiuto ma È difficilissimo Mettimelo in 3D Ecco, così È meglio Ah, è Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio No No Andiamo in difficile Uh È spagnolo Ma che è difficile Ma perché è difficile, mi diceva Mi sa che non è per niente difficile Mi sbagliavo Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Bene Stavolta ce l'ho fatta Bene raga Per questo video Era tutto Se vi è piaciuto Lasciate un bel like Scrivetelo nei commenti Iscrivetevi Se non lo avete ancora fatto Boom Ci vediamo al prossimo video Bella raga Ciao